Ciao, buongiorno, ben ritrovati, come state ragazzi? Allora ci sono delle paroline di Alessandro Del Piero a Paramon Plus in occasione della serata di Champions di ieri sera ad andare a recuperare. Ve le ho messe comunque su Instagram, su Twitter, qui anche nella community del canale YouTube, andatevele a leggere perché parlano di un potenziale ritorno di Alessandro Del Piero alla Juventus e lasciano intendere che forse qualcosa si è pure mosso e che Del Piero ci sta seriamente ragionando. Quindi vediamo che cosa accadrà, ma secondo me questa è una sorta di bellissima notizia, tra virgolette, perché notizia non è però il fatto che Del Piero abbia parlato e non abbia, attenzione, non abbia escluso il suo ritorno alla Juve. Beh, è qualcosa di molto bello, ma questo è un discorso che faremo comunque più avanti, Del Piero ha parlato anche del momento della squadra, del momento. Relativo al rendimento della squadra per quanto riguarda tutto quello che accade fuori dal campo. Cercheremo di parlarne magari in seconda battuta, forse avvicinandoci al 19, dato che poi ci sarà l'esito del ricorso relativo ai 15 punti di penalizzazione per il caso Plus Valenze e ieri abbiamo visto che c'è stata anche la conclusione delle indagini per quanto riguarda il caso stipendi. Quindi tutte queste informazioni al momento le trasliamo più avanti nel tempo perché oggi c'è qualcosa di più importante di cui parlare. Oggi dobbiamo ragionare sul quarto di finale di UEFA Europa League che la Juventus andrà ad affrontare questa sera in casa contro lo Sporting di Lisbona. E allora, come sempre, il giorno della partita cerchiamo di fare una breve panoramica inerente agli avversari che sono tosti, sono molto tosti e quindi andiamo a recuperare l'ultima partita giocata proprio in questa competizione dallo Sporting Lisbona. Arsenal Sporting, una partita che si è conclusa per 1-1 con vittoria e calci di rigore da parte dello Sporting Lisbona che non ne ha sbagliato nemmeno uno e già questo dovrebbe farci capire che dobbiamo cercare di andare abbastanza sicuri sul passaggio del turno senza doverci fermare per forza di cose anche all'incertezza, a pareggio, bisogna cercare di chiudere del prima possibile e già partire da questa sera e vedremo anche il perché successivamente. L'Arsenal che in questa partita fa un po' di turnover, non fa giocare Bukayo Saka, non fa giocare Trossar che ultimamente ne sta giocando un bel po', non gioca Thomas, non gioca Odegaard, quindi insomma tanti giocatori che in questa stagione sono stati indispensabili, fondamentali per appunto la squadra prima in Premier League con lo Sporting che invece risponde con la squadra delle grandi occasioni e con quel gol meraviglioso segnato da Pedro con Galvez praticamente da centrocampo se no forse qualche metro prima, quindi attenzione al loro numero 28 e vediamo che cosa succede perché questa è la formazione che ha giocato appunto a Londra contro l'Arsenal e abbiamo una sorta di probabile formazione sia della Juve che dello Sporting che vede quasi tutti quei giocatori lì, soltanto un giocatore diffidato, anzi squalificato che è Ugarde che era il centrocampista centrale che giocava di fianco a con Galvez, questa sera non sarà presente all'Allianz Stadium e vedremo il 3-4-3 dello Sporting con Trincao, Kermiti ed Edwards di punta e con appunto con Galvez a centrocampo molta molta attenzione su questo giocatore con il numero 28 sulla schiena la Juventus dall'altra parte risponde con una sorta di 3-4-3 o 3-4-2-1 che dire se voglia cambia veramente nulla per mettersi a specchio è la domanda che è stata fatta ieri da Allegri in conferenza stampa ed è un po' quello che vi dicevo secondo me la Juventus in realtà giocherà con una sorta di 4-2-3-1 quindi questo assetto, questi uomini, possono essere benissimo questi 11 titolari ma con Chiesa che trasloca, si sposta sulla destra quindi Costi e Chiesa larghi nel 4-2-3-1 e Milichi di Maria di punta potrebbe essere questo il vestito che vedremo indossare alla Juventus questa sera sono abbastanza convinto anch'io che sarà così poi vedremo se Allegri andrà a confermare questa cosa ieri ci ha fatto capire che tutto dipende dalle condizioni di Federico Chiesa e quindi secondo me il ballottaggio appunto tra Chiesa e Fagioli per capire se sarà 3-4-3, 4-3-3 o 4-2-3-1 quindi monitoriamo questa cosa qui Juventus con praticamente tutta la rosa al completo soltanto De Sciglio e Cagliorghe sono indisponibili finalmente a metà aprile la Juventus arriva ad avere la rosa al completo e permettersi di tenere giù Pogba, Fagioli, Ken, Vlaovic, Gatti, Miretti inizia ad essere veramente un segnale di una Juve che ha tutte le carte in regola per cercare di arrivare fino all'ultimo step di questa competizione per farlo però bisognerà battere appunto lo Sporting Lisbona Sporting che comunque nel mercato estivo e il mercato invernale ha fatto dei movimenti interessanti ha ceduto dei giocatori anche molto molto forti come Nuno Mendes abbiamo visto dato che ci abbiamo giocato contro in questa stagione Pedro Porno Munez per tantissimi tantissimi milioni di euro e con una spesa un po' più piccola è andata a mettersi a posto con tanti giocatori che poi appunto stanno facendo la differenza anche oggi tra l'altro c'è anche Ectro Beyerin che comunque non sembra essere uno dei giocatori migliori di questo Sporting infatti anche nella probabile formazione non l'abbiamo visto titolare e quindi direi di andare un attimo a monitorare quelli che sono i giocatori da tenere d'occhio e appunto abbiamo Goncalves che in questo momento con il suo 28 sulla schiena qua segnato come ala sinistra sta giocando come centrocampista centrale 42 presenze e ben 18 reti per un giocatore che gioca a centrocampo è un bottino veramente molto 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 interessante poi c'è Paoligno che è praticamente il loro centravanti con 15 reti attenzione però che Paoligno questa sera non sarà disponibile come vedete è negli indisponibili e quindi giocherà Kermiti al suo posto da tenere d'occhio c'è anche Trincao che ha segnato già 12 gol in prestito dalla Barcellona e Edwards con 12 gol quindi i loro esterni sono giocatori sicuramente qualitativi ma che anche hanno la possibilità di fare male dal punto di vista offensivo quindi possono segnare molto molto tranquillamente e poi abbiamo un attimo da visualizzare quello che è il calendario dei nostri avversari quindi dello Sporting che ha giocato queste partite in Europa League è riuscito a passare il primo turno intermedio il playoff abbastanza tranquillamente e poi con l'Arsen appunto 2-2 all'andata 1-1 al ritorno che si è trasformato nel 4-6 dopo i calci di rigore abbiamo anche a disposizione una sorta di riepilogo di quello che è stato il percorso attuale dei nostri avversari ed eccolo qua il bilancio in casa e fuori casa della Liga Portoghese dove comunque loro sono al quarto posto c'è il Benfica là che è scappato al primo posto con 71 punti poi c'è il Porto, il Braga e lo Sporting che inseguono quindi una quarta posizione abbastanza consolidata da parte dello Sporting il bilancio in casa e il bilancio fuori casa dicevamo è completamente differente non è la prima volta che quest'anno vediamo una squadra di questo tipo anzi l'abbiamo visto spesso e volentieri la Juve è una di queste una squadra che raccoglie decisamente più quando gioca in casa e infatti loro in casa su 13 partite hanno fatto 11 vittorie, 2 sconfitte con 35 gol segnati e 7 subiti numeri veramente molto molto impressionanti invece, questo soltanto nel campionato invece fuori casa in 14 partite 7 vittorie, 3 pareggi, 4 sconfitte media punti che precipita così come il numero di reti perché soltanto 21 gol segnati e ben 19 gol subiti cosa significa? che in casa riescono a mantenere uno standard fuori casa non riescono a mantenere quello standard quindi già questa sera all'Allianz Stadium la Juventus, come diceva ieri Allegri dovrà giocare una partita aggressiva e cercare di mettere davvero il treno sui binari giusti per riuscire poi a qualificarsi andare a giocare una partita complicata ce lo sta dicendo l'analisi numerica ce lo stanno dicendo i numeri complicata che però la Juventus deve per forza di cose andarsi a giocare per vincere perché io ieri quando sentivo Allegri che parlava di una partita vinta una partita pareggiata e si passa, sì è vero però la Juventus deve mettersi in testa che deve provare a vincerle tutte e due e qui abbiamo anche un attimo uno score vediamo che il girone di Champions comunque non hanno fatto bene hanno fatto comunque meglio di noi che abbiamo vinto una sola partita se riuscite a perdere anche contro una squadra decisamente sotto livellata rispetto al nostro organico loro hanno giocato tutte le partite in stagione con il 3-4-3 quindi hanno un sistema di gioco consolidato magari a differenza rispetto al Nant che abbiamo visto girava abbastanza Nante e Friburgo erano due squadre che la Juventus doveva per forza di cose superare e anche abbastanza facilmente come è accaduto lo Sporting diventa il primo vero ostacolo in cui cercare di superarsi la Juventus può farsela? certo, assolutamente sì e avrà una settimana di tempo per capire se questa cosa effettivamente accadrà tra l'altro poi dicevamo prima il 19 quindi alla vigilia del ritorno ci sarà anche l'esito il ricorso e avremo la conferma di punti confermati oppure no certo è che alla vigilia della prima partita la conclusione delle indagini alla vigilia della seconda partita l'esito del ricorso non si riesce mai a stare tranquilli anche extracampo e come diceva ieri Allegri attenzione perché comunque nelle ultime partite loro hanno raccolto molto hanno dei risultati molto interessanti per dire in campionato non perdono dal 12 di febbraio quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 risultati utili consecutivi di cui soltanto un pareggio per 0 a 0 e tutti gli altri invece sono stati abbastanza straripanti anche se nell'ultima partita hanno vinto per 4 a 3 quindi significa che sono tutt'altro che una difesa rocciosa granitica si può tranquillamente fare del male e appunto anche in Europa League in questa stagione sono ancora imbattuti perché non hanno mai perso dato che hanno eliminato addirittura l'Arsenal pareggiando l'andata insomma una squadra da rispettare da tenere sott'occhio ma la Juventus ha maggior ragione la Juventus appena organica ha maggior ragione la Juventus che potrebbe scendere in campo con quella formazione che abbiamo visto può decisamente farcela quindi io credo che sia arrivato il momento di pretendere uno standard di rendimento elevato da parte della Ju ieri abbiamo visto un Allegri molto tranquillo io non sono così tranquillo perché ho visto che nelle ultime due partite con l'Astio e l'Inter l'approccio della Juventus non è stato eccellente non mi sono piaciute tante decisioni dal punto di vista tecnico di come è stata improntata la partita e io invece questa sera voglio vedere una squadra semplicemente aggressiva voglio vedere una squadra che ha la volontà di scendere in campo per decidere di passare il turno già questa sera perché a ritorno non possiamo permetterci di sbagliare non possiamo permetterci di avere l'imprevisto come spesso abbiamo visto in stagione bisogna già indirizzare la qualificazione perché sennò tra sette giorni poi il rischio di andare a casa diventa decisamente concreto un abbraccio ci vediamo questa sera per tutto quello che riguarda la partita un abbraccio Grazie a tutti